Ciao a tutti ragazzi e bentrovati sul mio canale YouTube da Simone Pasqua Domani 11 ottobre alle 18.30 scenderanno in campo le nostre amate fere Scenderà in campo la Ternana Calcio contro la Robur Siena per i quarti di finale Di Coppa Italia di Lega Pro, la Ternana che giocherà a Siena Alle 18.30 vi ricordo una partita con una squadra in un altro girone Una partita da vincere, una partita da vincere per passare il turno E per ridare morale ai rossoverdi che vengono dalla cosciente sconfitta in casa contro la casertana Una partita da vincere, speriamo anche con gol da parte degli attaccanti Questo significherebbe che il reparto offensivo della Ternana funziona Perché il problema di quest'anno è anche questo Che la Ternana in attacco crea molto ma non concretizza tutto quello che crea Sciupando diverse occasioni da gol e fanno sì che ovviamente i punti poi non arrivano come ci si aspetta E soprattutto non arrivano i gol come ci si aspetta Perché con tutto quello che crei, due gol a partita li dovresti fare Poi c'è l'altro problema difesa che parti sempre con un gol di svantaggio Questo ovviamente speriamo che la società rossoverde lo valuti in ottica calciomercato che si aprirà tra poco Speriamo che i nostri amati colori riescano a vincere domani contro la Roborsiena E nulla ragazzi ci vediamo al prossimo video e ovviamente forza fere sempre E per il campionato staremo a vedere È una lotta e speriamo di farcela